Uno, due, tuffo bomba! Yeeeeh! Bravo! Un pacco? Che pacco bellissimo! Vediamo che cos'è, guarda mamma! Che cos'è? Apri! Oh! Una lampada! Una lampada! Paola Caruso ha trascorso una piacevole vacanza con suo figlio Michelino. Nonostante un inconveniente, il bambino è stato costretto a indossare ancora il tutore alla gamba. Paola ha spiegato che i problemi non sono ancora stati risolti, ma ha fatto tutto il possibile per rendere felice il suo piccolo. Nonostante le difficoltà, la madre amorevole ha organizzato attività divertenti e avventure emozionanti per distrarre Michelino dalla sua situazione temporanea. Hanno esplorato nuovi luoghi, assaporato delizie culinarie e creato ricordi indimenticabili insieme. Paola è un esempio di forza e dedizione materna, dimostrando che l'amore e la cura possono superare qualsiasi ostacolo. Michelino è stato senza dubbio grato per il suo impegno, apprezzando il tempo trascorso con sua madre durante la vacanza. Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille!